Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Da Borrano che ha dimostrato di essere una buona squadra, una squadra che giocava palla a terra, che ha cercato in tutti i modi di mettervi in difficoltà, dietro comunque avete sempre fatto buona guardia. D'altronde hanno vinto il loro girone non per niente, sono una buonissima squadra, hanno delle buone individualità, però sono stati come al solito più forti, più compatti, e penso che se continuiamo a lottare così con quel gruppo che abbiamo ce n'è per pochi. Nel primo tempo, in uno dei tuoi rari passaggi sbagliati, Stefano Cuoghi si è alzato come una tarantola dalla panchina per rimproverarti, fra piccolette. È la prova che la squadra, la società, l'allenatore tengono moltissimo alla full scudetto? Sì, ma ci teniamo tutti, non soltanto il mister o la società, ci teniamo tutti, è un obiettivo che ci siamo fissati, vogliamo far bene, vogliamo continuare a far bene, adesso aspettiamo il 13 all'Arena al Kitt. Grazie.